seconda parte del jointed stasera lo andremo a verniciare ho già fatto i fori per i giunti che prima poi giuro che vi farò vedere come si fanno adesso lo smontiamo e ci prepariamo iniziamo con una mano di bianco anzi 4 o 5 mani e e e e e e e e e Grazie a tutti. Ho provato a dare una mano di Tura Pori sopra il colore. Non è stato un bel esperimento, però forse non ho fatto neanche danno. Non lo rifarò mai più comunque. Per la verniciatura qualcosa di naturale, verde, scuro. Ho deciso di iniziare col giallo per la pancia. Andiamo col verde. Grazie. Grazie a tutti. Se devo essere onesto non mi piace molto come è venuto, ma già dalla parte ha un po' di segni e un po' di cose che non mi piacciono. Non voglio fare una cosa perfetta stavolta. Gli do una bella verniciata e faccio un artificiale da usare, da sfruttare senza tanti problemi. Ho creato un piccolo stencil, diciamo, che adesso andrò ad applicare. Vediamo poi il risultato finale. Magari poi viene meglio di molti altri che ho fatto con attenzione. Grazie. 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 che dettaglio vediamo cosa ne esce ho aggiunto un po di rosso sulla pancia nero sopra un po di nero in giro agli occhi stessa cosa nella coda ho fatto questo focus ho fatto rosse anche le giunture ora mancano gli occhi la resina e poi si può buttare via no vabbè dai lo userò fa abbastanza schifo però una volta resinato secondo me potrebbe funzionare bene come artificiale vediamo devo dire che già con un occhio fa tutto un altro effetto vedremo di darci una bella resinata come si deve e via bello bello mi piace finché non ci ho messo l'occhio non mi rendeva l'idea ci siamo spostati in casa dove finalmente darò la resina all'artificiale mi sono accorto di averlo ripetuto 40 volte durante il video vi chiedo scusa la sto lasciando un po in acqua calda perché ho visto che funziona molto meglio quando è calda e mescherò le due parti lo lascerò un quarto d'ora 20 minuti a riposare poi semplicemente la passerò con il pennello dopo averlo passato col pennello lo lascio su questo supporto girevole per cinque o sei ore in movimento è il focus quello che vuole ok e in modo che la resina si distribuisca uniformemente non filmerò il tutto semplicemente perché non ho preso il cavalletto non ho voglia di cercare qualcosa dove appoggiarmi vi farò vedere il risultato finito adesso capite perché non vedevo l'ora di dargli la resina cambia faccia ora metterò sul girarrosto va il video finisce qua artificiale sta asciugando ci metterà un bel po e farò prossimamente dei video mentre li testo li provo li uso per pescare cercando di prendere qualcosa spero vi sia piaciuto il video e niente iscrivetevi datemi tempo di imparare a far video a montarli bene a farvi seguire bene tutte le procedure e speriamo di riuscire a portare avanti questa cosa che mi sta piacendo molto buona serata a tutti